ben arrivati da auto accessori Puglia siete qui per vedere la nuova installazione che abbiamo eseguito dal nostro amico Salvatore del cammino facciamo vedere il gancio che abbiamo installato vedete da dietro non si vede nulla un'estetica molto bella avvicinata guardate il paraula non si vede nulla il gancio che abbiamo installato è un Westphalia questo è il gancio Westphalia e facciamo vedere come si inserisce il parapolvere che andiamo a togliere seguendo il centro del posteriore della macchina senza vedere andiamo a inserire il nostro gancio il gancio è inserito adesso per rimuoverlo abbiamo una rotellina a destra che la tiriamo indietro la ruppiamo in avanti affinché il nostro gancio viene in giù faccio così guardate senza vedere tiro indietro ruota in avanti e il gancio viene in giù il gancio è tolto ci mettiamo il parapolvere il parapolvere anche qui sotto a qui se vedete c'è la presa che è scomparsa abbassatevi la presa esce qui vedete ma tu che sei c'è la pancetta perciò ecco qua questo è un lavoro di Autocessori Puglia a Sala Consiglia vi aspettiamo per una prossima installazione arrivederci alla prossima chiude qua eh